Mi chiamo Armani Maria, sono nata a Roma nel 1941, ho conosciuto mio marito nel 1970 al CPO. Io lavoravo come infermiera, ero appena entrata, lui ritornava da Saint-Etienne e la mattina mi ha visto lì, siccome mi aveva già visto un po' per Ostia, ormai ci conosciamo tutti, mi ha detto tu che fai qua? Io non lo conoscevo però, ho detto faccio un'infermiera, poi durante il giorno così l'ho rivisto, il giorno dopo dice andiamo a fare una passeggiata. Ho detto vabbè e siamo andate a fare una passeggiata e insomma è cominciato lì. Quando aveva 21 anni lavorava in Sicilia in una ditta di mattoni perché lì in un paese non c'era altro. E a un certo punto è venuto andare in Alt'Italia perché c'aveva il fratello e lì si è fatto male in una ditta sempre di mattoni e un carrello gli è andato contro e quindi c'è questa lesione lombosacrale. Da lì non so quanti mesi è stato a Torino e l'hanno mandato al CPO di Ostia dove gli hanno curato le piaghe che si era fatto parecchie piaghe e poi ha cominciato a fare lo sport. Quindi a 21 anni, 22 anni così ha cominciato. Lo sport non gliel'hanno fatto più fare quindi loro hanno fatto un'associazione, l'ASCIP e andavano a fare lo sport a spese loro nelle varie città d'Italia per insegnargli a qualcuno che faceva sport lì durante l'anno. Poi è ritornata a casa non faceva più niente e allora hanno pensato di fare tutte società negli altri paesi insomma. E così hanno aperto queste società, hanno cominciato a fare palacanestro anche loro e si incontravano un po' di volte l'anno. Io avevo avuto pure una chiamata al Policlinico di Roma però poi ho rinunciato a quella e sono rimasta con loro. Perché mi facevano pena insomma come stavano tutti questi ragazzi, specialmente i cervicali e sto voluta rimanere così. Anzi, quando Lino è andato via mi ha detto se io volevo andare con loro e ho rinunciato pure a quello. Funzionava, funzionava bene. Poi ogni anno gli sportivi andavano a casa, ritornavano, stavano lì tutto l'estate, andavano all'estero, facevano le gare, poi ritornavano a casa. Comunque funzionava tutto bene. Era severo però. Andavano in palestra, facevano tante ore, mentre adesso non si fa quasi niente. Poi dopo lo sport si è messo a comprare qualche terreno, a far costruire e poi hanno fatto una società, una sanitaria, insieme a un altro paraplegico, tutte e due. Sono andate avanti per parecchi anni e poi ultimamente si è elevato perché non ce la faceva più, magari forse per l'età, non lo so. La mia famiglia non mi ha detto niente, mi ha detto fai quello che vuoi. Mia sorella un po' meno. Era un carattere così, forse magari non era uguale a me, io ero più, sono più calma. Lui invece doveva sempre fare qualcosa. Anche in casa, tirava fuori tutto. Poi ci vedeva poco, allora mi chiamava, guarda qua, guarda questo, guarda quello. Io mi stufavo perché tutte quelle carte. Ma bene perché Ostia ormai sono abituati a tutte queste carrozzine che girano. Quindi tutti quanti mi vogliono bene. Tanti paraplegici da paesi fuori Roma sono venuti proprio a stabilirsi qua perché è una città tutta piana, proprio buona per loro. Lui scherzava con tutti. Aiutava pure qualche volta quando qualcuna le chiedeva qualcosa, sai, non so come fare così, allora lui le aiutava. Nell'80 sono andata in Ecuador, a Quito, insieme siamo andati e abbiamo adottato una bambina. Però poi mentre eravamo lì si sono chiuse le adozioni e sono rimasta con questa bambina. E lui è ritornato a casa perché spesso aveva infezioni vescicali e in quel paese lì non si poteva curare. Dopo dieci mesi siamo ritornati e la figlia aveva due anni, l'avevo presa un anno e mezzo, aveva due anni e qualcosa. E poi ho cominciato, sono stata tre mesi a casa come di solito quando nasce un bambino. E poi sono andata, ritornata a lavorare e mio marito l'accompagnava all'asilo, la riprendeva, così ho cominciato la vita in tre. E poi adesso quest'anno si è sposata e ha un bambino di otto mesi. Quando tornava dall'estero eravamo contenti, però non è che gli chiedevo quante medaglie ha vinto, quanto perché, pensavo, che ne so, di offendere la persona perché magari non aveva vinto poco. Non gli chiedevo niente. Quello che portava, portava. Dopo, quando non si sono più allenati al CPO, si allenavano all'ACIP. Andavano su qualche campo di Roma a fare palacanestro, così. Però io non li seguivo. Non c'era tanta divisione tra l'infermiere e il portantino, cioè ci aiutavamo tutti. Mentre adesso ognuno ha i suoi compiti. Ci aiutavamo come una famiglia. Non guardavamo ai compiti che avevamo assegnati, no. Non guardavamo ai compiti che avevamo a fare palacanestro, cioè ci aiutavamo ai compiti che avevamo a fare palacanestro.